Arcella è entrato nel negozio e non ha esitato a puntare la siringa contro la titolare incinta, poi si è fatto consegnare i soldi della cassa ed è scappato. La sequenza è stata ripresa dalle telecamere di questo minimarket cinese di Via Aspetti. La rapina è avvenuta in pieno giorno, sabato pomeriggio. Si vede il rapinatore a volto scoperto, un ragazzo alto e magro che prima fa finta di guardarsi intorno e poi estrae la siringa e minaccia la giovane donna cinese, che una volta rimasta sola riesce subito a dare l'allarme alla polizia. Grazie alle immagini della telecamera interna del negozio, gli agenti delle volanti diramano la descrizione del rapinatore tra le pattuglie in zona, anche attraverso WhatsApp. Il fuggitivo viene subito individuato mentre cerca di prendere un treno in stazione. In manetta è finito pari dell'otto, 29enne, pregiudicato Vicentino.